Il sindaco si insedia formalmente nelle sue funzioni e nell'atto di insediamento viene redatto il presente verbale. Lei è il sindaco ufficialmente insediato. E' il mio impegno, il mio debito tumore con la città e non tradire mai Catania ed è questo che io per sicuro farò. Grazie. Grazie per la famiglia. Grazie. Grazie.